Benvenuti in questa nuova puntata di F4FinTV, il podcast della community di FinTV e oggi ho l'onore di intervistare Bali Verna per gli amici Stefano. Molto piacere di essere qui e grazie per avermi invitato. Prima di iniziare con le consuete domande, una rapida storia dell'utente Bali Verna e si è scritto il 10 luglio del 2009 sul sito di FinTV ed è una delle colonne portanti del sito. Ha scritto più di 2000 recensioni, altre tante playlist, 27 post e tuttora è un utente molto attivo. Quindi prima di procedere con le domande vi lascio alla sigla. Grazie a tutti. Allora, come prima domanda ti chiedo, come è nata la tua passione per il cinema e cosa ha rappresentato il cinema nella tua vita e per la tua generazione? Allora, la mia passione per il cinema è nata praticamente quando ero bambino, cioè anche se non mi rendevo conto che avevo una passione per il cinema perché non è che svolgevo riflessioni su quali sono le passioni o che cosa piace alla gente. So che mi piaceva guardare i film, io sono stato bambino e poi ragazzo negli anni 80 e in quel periodo la Rai mostrava molti bei film, sia la sera, in prima serata, che al pomeriggio, soprattutto d'estate, dopo il telegiornale, alle due, queste cose qua. Mi è sempre piaciuto vedere i film e anche tra quelli che vedevo poi c'erano quelli che mi piacevano e che mi ricordo ancora oggi. e quelli che mi colpivano, però come dire, ero ancora bambino o poco più. Poi quando ero già un ragazzo ho cominciato, come dire, allora secondo me la televisione ha peggiorato molto il suo livello nei primi anni 90. C'è lì è avvenuto un cambiamento nella Rai e di questo avevo già sentito parlare. Cioè sono stati cambiati molti parametri e la Rai è diventata via via sempre più simile a una TV commerciale e a una TV meno culturale, meno dedita al cinema, con una progressione che poi è continuata implaccabile. Quindi io a un certo punto addirittura smisi di guardare la televisione attorno al 90, al 91, al 92. Però io ero spesso da mia nonna, dai miei nonni, e lì trovavo una rivista che usciva all'epoca che si chiamava Onda TV. Ed era una bella rivista, devo dire, dove qualche critico, che non sono mai riuscito a capire chi fosse, cioè quella volta non andai a cercare come si chiamasse, se poi è difficile oggi risalire perché poi la rivista smise di uscire negli anni 90. In ogni caso io li leggevo per puro sfizio solo le recensioni dei film. Mi piaceva leggere quel critico, che torno a dire, vorrei sapere chi era, e mi piaceva leggere le sue recensioni, in modo molto schietto e diretto che aveva di scrivere, perché io ero un po' così, non mi piacevano le recensioni che c'erano per esempio su TV Sorrisi e Canzoni, dove tutti i film erano belli, scrivevano la trama, tutti così in modo molto superficiale, quella roba lì proprio era come mangiare una minestra lunga, allungata con l'acqua, insomma. Invece lì proprio io non guardavo i film, perché però leggevo le recensioni, no? Ci sono alcune che addirittura me le sono tagliate, almeno una che ancora la conservo da qualche parte. E poi, quando è cambiato tutto, cioè io appunto per un paio d'anni non guardavo, poi nel 1992 ebbi il mio primo videoregistratore. E lì cambiò tutto. E lì cambiò tutto, perché senza neanche avere questo in programma precisamente, cominciai a guardare, a registrare, a guardare, a registrare, a guardare, no? In quel periodo lì i film belli li facevano ancora al pomeriggio, qualcosa, mi ricordo, in estate, no? E la notte. La notte negli anni 90 era il mondo del cinema nella RAI, cioè c'era qualche direttiva evidentemente di non mostrare i film durante il giorno, per ragioni di audience, ma non solo, secondo me, e quindi i programmatori dicevano, vabbè, di notte abbiamo la libertà, non c'è raccolta pubblicitaria, mostriamo lì la notte. E di notte veramente usciva di tutto, cioè veramente di tutti i generi, film belli, storici, vecchi, nuovi. C'era la rassegna su RAI 1 per anni e anni, Sabato Club, penso che la conoscono in molti, la ricordano. E lì potevano fare l'ultimo film uscito due anni fa, oppure un film del 1949 di Raoul Walsh, per dire, o di François Truffaut, un film degli anni 60. Cioè era veramente, per me la rassegna ideale, cioè che non tiene conto, nuovo o vecchio, non tiene conto del genere, ma tiene conto solo del fatto che siano bei film, almeno che non piaceranno tutti allo stesso modo, però che siano per tutti, almeno interessanti da vedere, per averli visti, insomma. E quindi questo criterio mi piaceva molto. Io quasi sempre registravo Sabato Club, mi ricordo ancora molti film che furono. Poi ho cominciato a registrare regolarmente i film di Via di Razzini, presentati da Via di Razzini, che era la domenica sera, prima mi pare le 23.30, poi a mezzanotte, poi a mezzanotte e un quarto, poi a mezzanotte e 45, poi a luna, poi a luna e mezza, così è stato il suo progresso nel corso degli anni e poi basta. Però grazie a Via di Razzini, che io stimavo molto, ho conosciuto il cinema americano classico e me ne sono appassionato, quindi commedie, quindi noir, quindi appunto le scruble comedy che oggi sono così poco conosciute, ma sono così spassose. E l'autofotoprofilo poi... Esatto, l'autofotoprofilo è una scena di, come avranno già capito in molti, di Susanna, di Howard Hawks, che è un regista che amo moltissimo, anche perché riuscì ad eccellere in tutti i generi, cioè dal western alla commedia, al noir, diciamo tutti i generi, lui li ha frequentati e ha lasciato un segno. Sì, un vero maestro. Quindi io, per me è cambiato il mondo quando ho cominciato ad avere videodigitatore e giù di videocassette, e giù di programmazioni, copiare le videocassette. non solo le registravo, ma le guardavo. Cioè io volevo vedere tutti questi film con questo metodo, conobi all'epoca anche i film di Tarkovsky, che è un altro regista che amo molto, è che, perché quello che era Tele Monte Carlo, che oggi è la sette, li trasmetteva, cioè li aveva trasmessi, proprio a ridosso del mio accesso al videoregistratore, la notte ovviamente, con orari impossibili, anche perché variabili, cioè l'orario scritto 23, magari cominciava a mezzanotte 20, era così, però riuscì a registrarle, magari un paio di volte mancava la fine, o cose del genere, però ho conosciuto in questo modo Andrei Tarkovsky, che è rimasto uno dei miei registri fondamentali. Tra l'altro perché io registrai il primo Andrei Rubriov? Perché lessi una recensione su Onda TV che mi colpì profondamente, veramente, c'erano poche righe, ma io me lo ricordo a memoria ancora com'era questa recensione, questo film lo devo vedere, e non mi sbagliai, perché è rimasto Andrei Rubriov. Quindi per me la passione cinema iniziò dall'infanzia, di cui ancora ricordo molti film, e poi si approfondì negli anni successivi, però senza videoregistratore, poi anche quelli più moderni con la hard disk, all'epoca non era possibile praticare, cioè uno nel 1996, voglio vedere i film, sull'alaia un po', o l'estate, le due di poverizzo, oppure la notte, non era praticabile, insomma, e poi io provavo, e provo, un certo gusto, quando la sera, non so, all'epoca mi guardavo, un bel film trasmesso alle due di notte, e io dicevo, vi ho fregati, signori, vi ho fregati, voi mi mostrate la vostra schipezza, il vostro pattume, alle 21, e io mi guardo, il capolavoro trasmesso alle treventi, fantastico, e avevo questo piacere, le sottile, che non posso negare, insomma, questa è più o meno, appunto, la nascita della mia passione per il cinema, molto interessante, che tutto parta dalla televisione, e poi dalle recensioni, e poi il cinema, molto interessante, tra l'altro, in quell'epoca, iniziò a uscire film tv, no? Esatto. E com'è? Visto che ci siamo, no? Cioè, io leggevo questo onda tv, e dopo iniziai a comprarlo, prima lo leggevo da mia nonna, poi iniziai a comprarlo, però a un certo punto, questo onda tv, fu preso da qualche, quella di, dobbiamo migliorare il potenziare, no? E cosa cominciarono a fare? Penso che cambiarono il critico, al posto di scrivere recensioni, diciamo, argomentate sulla qualità del film, iniziarono a scrivere la trama, con due righe, così, di opinione, no? Ma in modo abbastanza annacquato, cioè, assomigliava un po' a, di nuovo, a tv sorrisi e canzoni, no? E io, a un certo punto, mi stufai, e dico, questo giornale, non mi è, esmisi di comprarlo, e iniziai, ecco, però per un periodo, avevo già iniziato a comprare film tv, che io, praticamente iniziai, ho perso i primi numeri, forse due, tre, perché, mi vedevo la pubblicità per televisione, no? Che fosse, Che era uscita questa nuova rivista, e ho detto, dai, questa qui diventa una, una, così, un semolino, senza sale, vediamo questa nuova film tv, e mi piaceva subito, devo dire, mi piaceva molto, mi piacevano molto le recensioni, critici come Emanuela Martini, li trovavano molto, molto cinematografici, cioè non ideologici, o non, che volevano essere promuovere, qualche prodotto, ma scrivevano, sinceramente, lodavano film, magari, trasmessi in orari brutti, e parlavano male di film, trasmessi in prima serata, di sabato sera, e, e mi piaceva, devo dire, poi, il segno, cioè, che la scelta, era stata sbagliata, Onda TV, smise di pubblicare, nel giro di, penso un paio d'anni, non mi ricordo esattamente, però, evidentemente, molti altri come me, avevano trovato, la, il cambiamento, della rivista, non opportuno, e, e così sono rimasto da allora, su film tv. A questo punto, ti chiedo, che rapporto hai, con la critica, cinematografica? Allora, con la critica di allora, parlo degli anni 90, quindi, avevo un rapporto migliore, devo dire, mi piaceva, mi piacevano, quelli che scrivevano su film tv, erano alcune persone, no? Mi piaceva, cioè, mi piace ancora oggi, insomma, perché il Merighetti, è ancora, diciamo, esiste ancora, ho comprato, penso, non tutte, ma quasi tutte le edizioni, del dizionario, devo dire, quindi, con la critica, poi, leggendo e leggendo, leggendo critica, poi, mi sono anche così, abituato ad analizzare i film, in un certo modo, ripeto, che, stimavo molto, via di Razzini, secondo me, lui veramente, aiutava a capire un film, lo faceva, in modo semplice, da una parte, ma anche profondo, dall'altra, senza essere inutilmente, complicato, senza voler dare, usare, sfoggiare, paroloni, o frati, come dire, wow, come intelligente, questa qua, no? schietto, aveva prima, un blocchetto, di carta, poi un portatile, e lui, si annotava le cose, che voleva dire, e le diceva, e veramente, dopo aver visto, la sua, la sua presentazione, oppure, analisi, post film, veramente, uno diceva, ci ho capito di più, mi piace di più, ecco, poi, l'altro critico, che andava forte, all'epoca, era Enrico Ghezzi, che, a me, diciamo, era molto simpatico, perché lo trovavo, talmente, così, no? Talmente fuori dagli schemi, che mi era simpatico, che poi, però, le sue analisi, aiutassero veramente a capire, o veramente fossero, come dire, ricchi di contenuto, su questo non posso dirlo, perché lui seguiva, dei ragionamenti, molto personali, molto, secondo me, saltando di palo in frasca, però, a me piaceva semplicemente ascoltarlo, e dire, guarda come l'ha messa qui, guarda come, che conclusione ha trovato per la sua analisi, e quindi era più una curiosità simpatica, questo senza togliere il suo merito di aver, ecco, un altro punto, fuori orario, è stata una trasmissione che ho sempre seguito oggi, molto meno, devo dire, che ho sempre seguito i film che mostravano, e li registravo, e quindi, al di là delle sue analisi molto personali, e, come dire, così avvitate, no, su se stesse, il merito che aveva era il dubbio, cioè lui tirava fuori film, che altrimenti, in nessun modo, lui importava, scovava film, che altrimenti, in nessun modo, sarebbero arrivati sugli schermi, sia televisivi che cinematografici, e certamente fuori orario, ha portato in Italia, film che, come dire, generi, registi, che poi si sono fatti conoscere, sono fatti apprezzare, ma senza fuori orario, sicuramente non sarebbe venuto, quindi il merito che ce l'ha, e di questo, nessuno glielo toglie, insomma. Poi, la critica di oggi, devo dire che, mi piace di meno, cioè, mi piace meno, la trovo, non so, più, narcisistica, vuole piacere e piacersi, scrive, con concetti, cioè, ha delle false righe sotto, che spesso si riescono a individuare, è molto legata, alla promozione del prodotto, e, quindi io, oggi la leggo così, quando leggo qualcosa, un po' per curiosità, vediamo un po' cosa dice questo, però, però lo prendo un po', così, con le pinze, e, non mi appassiona, devo dire, non dico tutti, è sempre, no, però, non mi appassiona, la critica di contemporanea, di adesso, questo è quello che penso, però il dizionario di Mareghetti dice sempre, sì, anche perché, poi io, Mareghetti, ho imparato a capire, un po', la mentalità sua, e evidentemente, dei suoi collaboratori, perché non può aver scritto tutto lui, però, in certi casi, addirittura, dico, questo, di questo lui parla non tanto bene, però, per quello che scrive, a me piazzerà, perché ho imparato a vedere cosa a lui dà fastidio, cosa piace di più, e vedo che qualche volta gli danno fastidio, degli elementi presenti in un film, però che a me piazzano, dico, tranquillo, Mareghetti, io me lo guardo, e so che mi piazzerà, e tante volte non mi sbaglio, viceversa, però, veramente, quando tante volte scrive, capolavoro, ed è vero, addirittura, certe volte, io ho detto all'inizio, ma sì, ma non so se è proprio un capolavoro, boh, lo dice lui, però dopo ci sono arrivato anch'io, e ho detto sì, in effetti questo, sono due film che mi vengono in mente, Grisby, di Jacques Becker, e Giungla d'asfalto, due così, io quando li guardavo, la prima volta, perché avevo letto la recensione, a quattro stellette, sul Mareghetti, ho detto, ma sì, non sono male, però dai, non vedo tutto, e poi, qualcosa mi, mi, sfrigolava dentro, li ho riguardati, e riguardati, e ho detto, no, è vero, questi sono grandissimi film, Giungla d'asfalto, e Grisby sono grandissimi film, e sono d'accordo assolutamente con Mareghetti, in altri casi, lui, ha stroncato, certi film, che dico, con rispetto a parlare, ma che si vergogna dire questo, che si vergogna, no, nel senso, ma come può dire questo, una cosa così brutta, di un film così bello, che cosa ha visto, ha visto un altro film, addirittura, ci sono stati anche dei casi, dove ho visto lui si è ricreduto, perché lo stesso film, nelle varie edizioni, ha cambiato valutazione, giustamente, non so, uno che mi viene in mente, è Il settimo viaggio di Simba, non mi ricordo se era questo, no, era un altro, non ha importanza, certi film sono cambiati, perché forse anche lui ha detto, beh dai, avete ragione, forse gli scrivevano, io non gli ho mai scritto, Mary Gatty, forse anche lui, perché poi accade a tutti, no, di rivedere un film, dopo qualche tempo, e dire, in effetti è bello, oppure in effetti è brutto, ecco, quindi di rivista, questo è quello che posso dire, sono molto interessanti, poi anche io a volte, non concordo con Mary Gatty, ma è importante comunque, scoprire i suoi giudizi, per poi scoprire delle perle, film che, sì, esatto, oppure per il fatto che, il film c'è, e posso trovare solo lì, un'opinione su questo film, quindi, ecco, è comunque uno strumento, che mi piace consultare, con però il filtro, dell'esperienza, il filtro della conoscenza, dell'autore, e delle, il filtro della, della corrispondenza, tra le mie, e le sue opinioni, insomma. Quindi di riviste di cinema, oltre a film tv, compri qualcos'altro, oggi, oppure un tempo, no? No, no, devo dire che, però frequento, frequento, imdb.com, quello anch'io, il sito, perché, quando cerco film internazionali, film non usciti in Italia, film veramente sconosciuti, qualche volta, è necessario, devo dire che, mi piace abbastanza, comunque, è un, è un elemento, da, 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 come dire, esatto, sì, anche per avere informazioni, qualche volta, semplicemente, la data, o il paese, molto affidabile, il titolo originale, no? Quindi, quello lo frequento, i due siti, quindi, che frequento, film tv, naturalmente, e, questo, imdb.com, che si è conquistato, bisogna dire, una sua, si è fatto, la sua immagine, di sito serio, bisogna dire, perché, anche se uno scrive su, cioè, deve scrivere bene, su imdb.com, c'è un controllo, l'estensione viene letta, soprattutto le prime, da qualcuno, non si possono usare, parole contratte, in inglese, cioè, c'è, anche la lingua, deve avere un certo, livello, culturale, e, quindi, giustamente, si è fatto un nome, per la completezza, anche assoluta, che ha, cioè, nel database, insomma. FinTV, allora, io oggi lo compro, lo leggo, però, se posso essere, devo essere sincero, i critici di oggi, di FinTV, non mi piacciono più tanto, come mi piacevano, quelli di, non so, 20, 25 anni fa. Oggi, secondo me, sono stati rivalutati, da questi critici, diversi registi, e film, che io, che una volta venivano considerati, e che io continuo a considerare, di basso livello. Quindi, oggi, diciamo, lo leggo per curiosità, vedo un po' quello che dicono, però, mentre prima, diciamo, ah, se lo dice Lamartini, è bello, no? Ecco, allora, me lo andavo a vedere. Oggi, sto molto attento, e tantissime volte, mi sono trovato davanti a film, che venivano giudicati bellissimi, tipo eccezionale, e io, veramente, non mi sono piaciuti, e non riesco assolutamente a capire come, uno che mi dice, io lo trovo così, così, a me non piace per niente, già siamo, siamo più vicini, ma uno mi dice, è bellissima, eccezionale, e io dico, a me fa schifo, ecco, quel che caga, è successo così, ecco, però, come dire, io lo continuo a leggere, tante volte, mi, 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 informa, su film che non conosco, so che su certi generi, sono simili, le loro opinioni sono simili ai miei, non so se vediamo il cinema americano, degli anni 80, 90, 70, siamo lì, ecco, poi, quindi, tengo conto, poi qualche volta mi piace un po' meno, poi, torno a dire, ci sono certi generi, che sono stati rivalutati, che per me, forse il primo era, mi ricordo Marco Giusti, che era uno degli amici di Enrico, Gezi, eh, non so, uno degli amici di Enrico Gezi, che aveva, eh, iniziato a rivalutare, mi ricordo, i film con Edwitch Feneck, hanno detto, sono un capolavoro, eh, quelli con Montagnani, Lafeneck, Alvaro Vitali, eh, e io dico, dai, dimmi che ti, che ti svaghi a guardarli, che, che qualche volta, per farsi una serata a Lezzera, vanno bene, ma non mi dire che sono un capolavoro, forza, quindi ora ti chiedo, come hai scoperto Fintv.it, e cosa ha rappresentato per te questa community? Ma, per me è molto, nel senso che, vabbè, io l'ho scopersi, perché, boh, leggevo la rivista, non mi ricordo se c'era qualche rimando sulla rivista, oppure io cercavo qualche film, e mi è venuto fuori il sito su internet, però, per me è sempre stato bello, perché ho potuto, poi, conoscere altri utenti come me, è anche, è molto migliore di me, non so, che sono proprio a un livello alto, tipo, spopola, lui è uno, cioè, confrontarmi con altri, orientarmi, attraverso le recensioni che leggevo, che leggo, perché se io adesso vedo che fanno un film, lì che mi, così, dai, vediamo cosa, subito, guarda cosa c'è scritto su FilmTV, cosa dice la scheda, ma non è tutto, voglio vedere cosa dicono gli utenti, e quelli che conosco, e che so che hanno delle opinioni vicine alle mie, allora, li tengo in gran conto, e mi regolo, in base a quello, altrimenti, se nessuno mi dicesse niente sul film, se non sapessi niente, sarebbe, un film sconosciuto, sarebbe difficile, sapere se, se guardarlo o meno, insomma, ecco, certo, poi qualche volta mi capita, che un film stroncato, per qualche strana ragione, me lo guardo, e dico, oh, ragazzi, a me piace, scusatemi, ecco, non voglio dire che quello è il mio, come dire, i paletti da cui non posso deviare, però, li tengo in conto, e mi aiutano a orientarmi, devo dire, le recensioni, di FilmTV. Sì, ci sono ottimi contributi, poi, sul sito, Spopola, per esempio, per esempio, ce ne sono, cos'è, Claudio, 1959, poi, chi c'era, non mi vengono in mente, perché sono questi nomignoli, ma quando li vedo, li vedo, li abbocchio subito, Peppe Comune, non so, in mente tanti, ecco, che devo dire, leggo, volentieri, sono anche ben scritte, scritte, non sono delle robacce buttate lì, non da social, al casaccio, non da social, che quella roba, con i puntini, senza maiuscole, senza frasi, è ovvio che quella roba lì, non aiuta, non informa, non mi interessa, però quando un testo scritto bene, argomentato, spiegato, perché sì, perché no, allora è interessante, quindi lo frequento spessissimo il sito, posso dirlo. Sì, devo dire che è una community molto preparata sul cinema, e che merita sempre. Sì, cioè, ha il merito di aver fatto spazio a persone che altrimenti non potrebbero scrivere, sì, persone qualunque che hanno questa passione e anche un'autorità, non un'autorità, cioè, hanno il diritto di dire quello che pensano, perché lo sanno argomentare, hanno una conoscenza sulla materia cinema, e quindi è giusto che scrivano, è giusto che la gente li legga, che altrimenti non avrebbero avuto spazio, né su riviste, né anche su periodici, su internet, dove ci sono i critici che scrivono, diciamo, i critici ufficiali, no? e quindi questo è un gran merito che ha il sito di FilmTV, ecco, posso dirlo senza remorso. Ritornando al cinema to cure, ti faccio questa domanda, che rapporto hai avuto e hai tuttora con la sala? E sotto domanda, quanto pesa la ritrattezza tecnologica nella disaffezione degli italiani per la sala? Allora, ho sempre avuto un buon rapporto con la sala, quando c'è un film che mi interessa, ci vado volentieri, appunto. Cioè, noi diciamo, ah cinema, andare lì, pagare il biglietto, poi uscire, no, 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 anzi, tanto meglio, cioè, anche, tanto più quando ci sono film che ho già visto, magari cicli, rassegne, eccetera, oh, questo film l'ho visto cinque volte in DVD, in sala, vado in sala, quindi, poi, precisato questo, a me, devo dire, insomma, se sincero, non mi è piaciuto il passaggio dal, analogico, la pellicola al digitale, posso essere franco, cioè, perché, uno, cioè, ce l'hanno, ce l'hanno fatto passare, come una qualità mazzore, ma su questo, questo non è vero, cioè, è più comodo per loro, perché non hanno le pizze, perché non hanno questi grandi carichi da trasportare, per trasportare un film, hanno queste, non so, queste memorie, mi hanno spiegato, questi che si inseriscono dentro, che hanno la scadenza, eccetera, quindi, per loro è più comodo, e forse anche meno costoso, sicuramente anzi, però, per l'utente, allora, la qualità della pellicola, quando era ben montata, ben regolato il fuoco, qualche volta c'era qualche proiezionista, che non era proprio, pignolo sul fuoco, però, il film era uno spettacolo, e, graffi a parte, i graffi non hanno mai disturbato, non ha mai sentito nessuno, che ha letto tutti quei graffi, la pellicola, no, le spuntinature, cioè, quindi, il sistema piaceva, ed era anche un elemento, o, di, caratteristico del cinema, c'era questo proiettore, con le ruote, i piatti che giravano, con i lampi della luce, che passava attraverso la pellicola, era qualcosa che, che piaceva ai piazzi anche oggi, perché quando c'è una rassegna, di film, su, che ancora le fanno, oppure rubrica sul cinema, per televisione, cosa fanno vedere? Fanno vedere il proiettore, che ormai non si usa più, quindi, non era un qualcosa di ostico, o di non piacevole, ecco, quindi, io, ero, non mi è piaciuto il passaggio a digitare, però, una volta che è avvenuto, è avvenuto, certamente, poi, la qualità, deve esserci comunque, deve, avviene, viene garantita in altri modi, il fuoco, perfetto, non ci devono essere luci in sala, di nessun tipo, neanche una porta, che si apre, pure la luce, della, della uscita di sicurezza, che si vede forte, ecco, sul suono, io non sono mai stato un gran cultore, del Dolby Surround, cioè, dico, se c'è, se ci sono queste cose, va bene, ma, dove io sono, e dopo magari passeremo più avanti a parlare, sono pignolo, è il formato originale, è voluto da regista, che deve essere garantito, l'integrità, ecco, del film, che non deve essere tagliato, oppure deve essere, uno spettatore deve essere avvertito, e quindi, il rapporto che ho con la sala, è buono, e non passerà mai, se non passerà, se non chiuderanno le sale, apprezzo molto, anche quando in una sala, hanno il coraggio di fare rassegne, tematiche, o per regista, o per argomento, non so, festival di cinema particolari, di provenienze particolari, ancora meglio, perché lì, ci vado sempre, quando posso, è bello andarci con qualcuno, ritrovarsi con altre persone, si gode di più il film in una sala, si è più coinvolti, si è più, cioè, il buio, lo schermo grande, si partecipa di più, che a casa, sul proprio divano, insomma. Si, si concorda assolutamente, quindi, preferisci più il cinema ad esser, rispetto ai multisali, immagini. Allora, sì, in multisala in generale, allora, può capitare che ci sia un bel film, una multisala, però, non succede così frequentemente, sui multisala, in genere, ci sono i blockbuster, io sicuramente amo il cinema ad esser, però, ci sono anche film, di grande pubblico, che escono in sale grandi, e ci vado, quindi, non è che ho una, una, una bregazione per, il cinema così da grande pubblico, assolutamente, poi, piacendomi, registi, generi, è ovvio che se c'è, non so, un ciclo, io un tempo fa, ero a Vienna, anni fa, c'era un ciclo su Billy Wilder, mamma mia, come non andare, come non andare, no, era ancora mostrato, poi, schermo grande, in pellicola, una roba, indimenticata, e anche i biglietti, che conservo, poi, ho la Cineteca di Bologna, quindi, loro sono maestro, viene una grande città, c'è sempre il pubblico, che affluisce, e, si possono permettere ancora, di fare questi cicli, che, magari, nelle piccole città, non sono, bisogna stare nei, nei grandi centri urbani, per certe rassegne, però, poi, quando partecipi, è bellissimo, perché, riesci a recuperare dei capolavori, nel loro formato, anche originale, se sei fortunato, e, se vi faccio questa domanda, che è collegata, anche un po', alla fruizione, dei film, lo streaming, ha modificato, in qualche modo, la tua percezione, delle opere cinematografiche, ti senti nostalgico, per il vecchio modello distributivo, o sei contento, di tutta, l'offerta audiovisiva, oggi, attualmente, è disponibile. Allora, io non ho rapporto, con lo streaming, non lo frequento, qualche volta, mi, sono guardato, film su YouTube, raramente, però, uno, perché non sono presenti, per motivi di diritti, qualche volta, ci sono, perché, quindi, qualche, però anche lì, sono qualcosa, che è impossibile reperire, però, se su YouTube, una versione si vede male, però, me lo voglio vedere, ma, poche volte, non hanno, magari zero, magari due, ecco, quindi, poi, non sono abbonato a Netflix, non lo sarò mai, non mi piace il modello, che è stato, diciamo, di fruizione, che è stato introdotto, nel pubblico, cioè, loro hanno questo database, bisogna pagare, per poterne accedere, loro decidono il catalogo, che mi dicono essere, non molto, cioè, se uno, uno che ama il cinema, d'autore, il cinema di sé, Netflix, più serie tv, ecco, sì, non, esatto, serie tv, blockbuster, però, mettiamo pure, mettiamo da parte, quale sia il catalogo, però, come dire, a me l'idea, di dipendere, da loro, sempre, per fruire del prodotto, di essere abbonato, che loro aggradi, di metterlo nel catalogo, per me è un impoverimento, cioè, io sono un grande amico del DVD, del Blu-ray, anch'io, perché, cioè, per esempio, l'estate scorsa, mi sono guardato tutti i migliori film a DVD Allen, degli anni 80, primi anni 90, è stato bellissimo, nel DVD, nel DVD che avevo comprato, dieci anni prima, o dodici, non mi ricordo, anche più, è stato, ho detto, ma guarda te, questi sono miei, li ho qua, quando voglio, li prendo, li presto a un amico, mi siedo qui, ed è mio, me lo guardo, me lo porto in vacanza, cioè, io dico, ma ho, ce l'ho in mano, quindi vedo anche le informazioni, vedo le foto, vedo i dati, vedo il cast, informazioni tecniche, cioè, io dico, ma scherziamo, cioè, su Netflix, questo non è possibile, su Netflix, noi non siamo mai, i proprietari, di nulla, siamo degli attuari, che fruiscono, di quello che loro vogliono, e, e per me, questo è una perdita, cioè, l'audiovisivo, secondo me, è salito di livello, fino a un certo punto, quando eravamo, a livello del Blu-ray, e poi è iniziato a scendere, cioè, dall'altro lato, c'è anche, un certo, una certa spinta, per non far registrare, dalla televisione, ci sono ancora, gli apparecchi, ci sono, della, soprattutto, della, della Panasonic, che sono, con hard disk, con lettore, e masterizzatore, però, sulle tv, le prime tv, smart tv, avevano, la possibilità di registrare, sulla chiavetta, se non c'è più, se c'è il tasto, addirittura, è stata tolta, questa funzione, cioè, non hanno simpatia, che un utente, registri, e guardi, quello che vuole lui, quando vuole lui, e quindi, dall'altro lato, c'è la spinta, allo streaming, secondo me, è un, un di meno, è un, poi, come dire, si sentono, questo è, del tutto collaterale, però, quanti mi hanno raccontato, che devono litigare a lungo, prima di scegliere, i film su Netflix, non so, coppie, un'ora per scegliere il film, esatto, un'ora, dico, ma se è stato un'ora, quando c'erano, i dvd, si diceva due, tre cose, dai, cosa guardiamo, di queste due, tre, esatto, quindi, io, non ho mai avuto Netflix, e non ce l'avrò mai, e mi tengo stretti, i vecchi metodi, che sopravvivono, c'è uno zoccolo di utenti, che continua a comprare, dvd, esatto, per fortuna, perché, la fascia che non molla, sono quelli come me, che amano il cinema, non così, da popcorn, e poi dimenticare, no, ma il cinema, in quanto arte, allora, se a me piace, moltissimo, la giungla d'asfalto, mi piace averlo a casa, cioè, ne scelte a fare, perché è tuo, è tuo, e sarà lì per sempre, esatto, esatto, no, quindi, il mercato, il mercato visto, è caduto, ovviamente, però, tiene su, su questi generi, le uscite di Blu-ray, su Blu-ray, dei capolavori, dei film famosi, sui film, dei decenni andati, ancora un mercato, che, in qualche modo, riesce a tenere, poi, la massa di adolescenti, di pubblico, da sabato sera, che ci guardano ogni tanto qualcosa, poi lo dimentica, questo certo, vanno su, questi vanno su, eh sì, quel pubblico lì, ecco, quindi, eh, questo è il mio rapporto, con lo streaming, diciamo, nullo, esatto, però sei un grande collezionista, quindi immagino che tu abbia, un sacco di titoli, accumulati, nel corso dei decenni, sì, 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 io ho, ho accumulato tanto materiale, sia comprato il negozio, da DVD originali, eh, che è registrato, eh, come faccio ancora, dalla televisione, eh, con hard disk, e mi piace comunque spulsare i programmi, per quanto siano, mi spiace di dirlo, sempre più poveri, di, eh, interesse, sono sempre più piatti, diciamo così, adesso ci sono i canali che trasmettono solo cinema, non so, i movie, eh, cinema delle trenta, però, sì, ogni tanto c'è qualcosa, però il livello è molto, molto piallato, così, prodotti, diciamo, di scasso interesse cinematografico, tuttavia, io spulso i programmi, ero visto, e ogni tanto mi registro qualcosa, eh, che poi, eh, mi piace guardare quando voglio io, e dove voglio io. Sì, molto meglio a questo punto, sì, sì. Prossima domanda, uno dei tuoi registi del cuore è Pupi Avati, perché? Sì, ma Pupi Avati, intanto, buono, il primo film che ho visto, che vedi di Pupi Avati, eh, e che poi ho visto molte altre volte, eh, una gita scolastica, mi colpì subito, non è forse un capolavoro in sé, è un buon film, d'accordo, però mi colpì molto per l'atmosfera, per la rivocazione, eh, di questa gita, così, l'atmosfera del ricordo, del tornare al passato, con un'ostalgia anche, mi colpì, mi piacque subito, eh, avevo con l'età, ero un ragazzino, però, e poi ho continuato, l'ho visto molte altre volte, eh, poi ho guardato appunto altri film suoi, con il passare degli anni, anche della prima, del primo periodo, che era molto più così, goliardico, scherzoso, buffo, surreale, no? Anche quelli però, devo dire, che mi piacciono, e perché? Perché è un regista originale, cioè lui è sempre, lui non fa mai nulla, come te l'aspetti, mai nulla, di, eh, di standard, pensato per il pubblico, di un certo tipo, piatto, lui è sempre qualcosa di che, ma come, da dove gli vengono queste idee, non so, da certi personaggi che rappresenta, da, da, da un certo punto di vista, dall'altro, sono tanti personaggi realistici, e molto veri, e molto, però sempre fuori dagli schemi, ha un'originalità, che, che oggi è sempre più rara, cioè, oggi scrivono i film, pensando al target, pensando al, al pubblico, cosa facciamo tra i 13 e i 19, o facciamo tra i 30, ai 50, no, eh, come target di pubblico, e questo non mi piace, evidentemente, quindi, eh, se vado a vedere un suo film, potrà essere più o meno riuscito, però so che avrò davanti un prodotto originale, che ha qualcosa da dire, eh, che, eh, ha elementi che non mi sarei aspettato, eh, e quindi, eh, anche adesso, l'ultimo che ho visto è stato Dante, eh, bello, non super, però abbastanza bello, con, eh, anche lì, elementi fuori da, dalla rappresentazione tipica, non so, del Medioevo, sia americana che italiana, eh, e quindi, poi ci sono altri film di pubblico, che mi piacciono molto, non so, impiegati, quello anche, eh, eh, è molto bello, eh, adesso, non me ne vengono in me, ne ha fatti tantissimi, non so, dichiarazioni d'amore, eh, che poi è sparito, sono anni, anni che non si vede più, non circola più, festa di laurea, eh, degli anni Ottanta, eh, anche, eh, le strade nel fosso, non so, adesso, dovrei, dovrei passare, ah sì, Regalo di Natale, molto famoso, esatto, è amarissimo, amarissimo, Regalo di Natale, uno dei film più amari, che uno può, eh, immaginare, diciamo che, ecco, nel suo secondo periodo, c'è sempre questo elemento, in Pupiavà, io, secondo periodo, diciamo dagli anni Ottanta in poi, che dura tuttora, c'è sempre questa, eh, amarezza, questa, eh, delusione, eh, questo, non raggiungimento, sostanzialmente, della felicità, o della, della, l'uscita, non poter uscire dai problemi così, eh, così pesanti, no? ci sia, storie di coppie, di amici, eh, di genitori, eh, con figli, no? Non so, papà di Giovanna, eh, anche, non so, mi viene a mettere, l'altro film, ma, ma quando arrivano le ragazze, no? C'è questa, questo protagonista con la moglie, eh, alla fine finisce proprio, cioè, che, che lui vede che, che a lei piazza con l'altro, c'è niente da fare, non c'è niente da fare, a lei, eh, è rimasto nel cuore, quell'altro, eh, e lui dice, oh, in goia al Boccovino, eh, in altri casi, c'è sempre questo finale, un po', viceversa, questo Dante, invece, c'è, nonostante la gran sofferenza che c'è in tutto il film, la malattia, la morte, l'esilio, alla fine c'è come una, una porticina che si apre, eh, lascia una sensazione diversa che di altre opere dell'autore. Poi, a me piaceva molto Dancing Paradise, che oggi è stato dimenticato, era una serie che lui fece negli anni Ottanta, adesso non mi ricordo, torno all'Ottanta, all'Ottantadue, che, ecco, che io vidi e mi ricordo, io all'epoca avevo forse dieci anni, ma me la ricordo, eh, era uscita in televisione, eh, di sera c'erano sei puntate, credo, e me la ricordo, e poi in anni recenti ho cercato di reperirla, ho trovato alcune puntate, anche lì una cosa originale, che è uno spasso, non c'è niente di, 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 così, personaggi pazzerelli, bizzarri, situazioni imprevedibili, eh, gustoso, gustosissimo, quasi con questo umorismo di sottofondo, eh, di buffo, che, peccato che poi, appunto, se pensiamo alle serie di oggi, con tutto rispetto, ma la fiction di oggi, siamo alla, la tabula, assolutamente, ecco, quindi per questo è un registro del cuore, cioè, mi ha toccato, certi film suoi mi hanno toccato dentro, come una gita scolastica, quello più di tutti, eh, eh, è una persona, insomma, che stimo, perché, è un creatore artistico, che non guarda in faccia a nessuno, e ha delle cose in mente da esprimere, le esprime, eh, non fa mai quello che uno si aspetterebbe, eh, è sempre interessante vedere un suo nuovo film, insomma. Passando ad un'altra, sì. Ecco, a lui, finisco, a lui è rimasto, e si vede dentro, lui l'ha anche detto, questo trauma per la morte del padre, eh, a lui è morto il padre, morì il padre quando aveva 12 anni, mi pare, ed è rimasto questa sofferenza, che si vede in tutti i suoi film, cioè, c'è qualcosa di interrotto, eh, e di, eh, irrecuperabile, e poi anche il suo continuo rievocare, dell'epoca, non so, di decenni, tra, cinquanta, sessanta, cioè, diciamo, i decenni passati, secondo me è segno che una parte di lui è rimasta lì, è rimasta, come quando si dicevano i traumi, insegnano i psicologi, una parte di noi è rimane lì, e lui nel suo immaginario continua a ripercorrere quell'epoca che poi riproduce nei suoi film. Ecco, ho chiuso la domanda. Molto interessante, sicuramente è un regista da riscoprire anche per le nuove generazioni, sicuramente. Sì, da far conoscere, che non esiste solo la, beh, Barbie, esistono cose ben più, più, Ah sì, Barbie l'ultimo film, sì, questo sicuramente, sì, sì, molto meglio Pupiavati, assolutamente. Esatto. Passando da un altro regista, cosa ne pensi di Darren Aronofsky, della voglia di strafare, come la chiami tu nella tua recensione di madre, che poi è anche comune a molti registi contemporanei? Allora, io ho visto forse solo quel film di lui, se ne ho visto un altro non me lo ricordo, però, quel film l'ho visto, allora, mi è piaciuto, come ho scritto, per tre quarti, cioè, mi è veramente piaciuto, perché, c'è un'atmosfera di minazza e di insidia impalpabile, che si sente in ogni minuto del film, cioè, sì, una tensione continua, non succede niente di fatto, però, riuscire a costruire questa atmosfera, secondo me, è molto difficile, cioè, un po' le musiche, un po' i rumori, un po' le inquadrature, e forse per ultimo, dopo quello che succede veramente, c'è questa insicurezza, e questa minaccia, che aleggiano e pendono sopra la casa, e sopra i protagonisti, soprattutto lei, no? Poi c'è questa progressione di invadenza, cioè, questi personaggi con pretesti, e questo anche mi è piaciuto, di solito di bontà, pretesto di aiutiamoli, hanno bisogno, hanno chiesto un piacere, aiutiamoli, perché non possiamo dirgli di no, eccetera, però, con questi mezzucci, con questi piccoli passi, loro entrano in casa, sempre più prepotentemente, invadono la loro vita, disturbano in ogni modo, e mentre solo lei percepisce, questo, questa invasione, il marito, invece no, il marito non la capisce, lei, non capisce lei, e d'altro lato, dall'altro canto, mi sembra che questi personaggi, non stiano infatti invadendo, la loro vita, la loro abitazione, ma sono persone, più o meno simpatiche, che hanno bisogno di aiuto, che perché no, facciamoli entrare, diamogli una mano, e quindi, tra loro, anche si crea, questa incomunicabilità, totale, tra moglie e marito, che lei si ritrova sola, completamente sola, contro questi invasori, che possiamo definire tali, come era stato, con Rosemary's Baby, dove il marito, della protagonista, fa presto amicizia, con questi, loschi, figuri, dell'aspetto così affabile, i vicini, i due vecchietti, e lei si ritrova, subito sola, con questi qua, che si prendono, sempre pezzi, della sua vita, sempre maggiore, insomma, poi, allora, anche mi è piaciuto, fino all'estremo, quando si trova la casa, invasa da questi personaggi, che poi devastano, l'abitazione, distruggono gli arredi, si siedono, sui lavabi, li scardinano, fuori dalle pareti, fumano, sporcano, buttano bottiglie, tutto bello, poi, a me non è piaciuto, questo discorso, del volo temporale, cioè, se finiva così, per me era, capolavoro, piaciuto, bellissimo, bellissimo, poi, c'è un salto, di cui non ho scritto, con precisione, nella recensione, per non rovinare, il film, che non l'aveva visto, però, adesso, quasi quasi lo dico, per spiegare, da dove, viene la mia perplessità, cioè, alla fine c'è questo salto temporale, che si, dove si torna indietro, in un modo così, diciamo, non chiaro, non si capisce su che cosa si basi, questo, che è un loop, loop temporale, sì, è un eterno ritorno, sì, un loop temporale, e lei torna all'inizio, ma, prende un'altra forma, perché fare questo, e lì ci sono tante letture, perché, perché non lasciare, sì, io però, ho detto, perché non lasciare così, far vedere, come questi sono entrati in casa, con piccoli, pretesti iniziali, sempre di più, e le hanno devastato la vita, e, per me, doveva finire così, questo volo così, a questo loop temporale, non mi è piaciuto, sì, comunque è un film che ha diviso molto, è definito anche disturbante, funziona, però sicuramente non è perfetto, magari sul finale, poteva scegliere un'altra via, magari, lasciare un finale un po' più in sospeso, comunque, l'invasione lì, invece che ritornare, con la nuova rinascita, sì, che può avere tante letture, in realtà, ho visto, sì, a qualcuno è piaciuto molto, a me, poi mi ha, peccato che proprio, il finale, mi ha buttato così, cioè, mi ha, mi ha, mi ha, rovinato, tutta la sensazione, che avevo accumulato, che poi, questo secondo me, è un problema, che hanno molti horror, negli ultimi anni, vogliono in qualche modo, fare qualche volo strano, con la trama, cioè, non accettano più, la trama che inizia, che finisce, deve esserci qualcosa, di stupefacente, colpo di scena, che, che, colpi di scena, incredibili, che strabigliano, però, a me, allora dico, sono un po' gratuiti, sono un po', così, dobbiamo mettere qualcosa, che stupisca, a tutti i costi, allora, io, esatto, io lascerei la vicenda, infatti, di solito i capolavori, sono semplici, non sono, non sono, cervellotici, no? Lo stesso motivo, per cui a me, non piace mai Matrix, che è, io invece la devo, adorato da tanti, sì, e lì, in prima parte, sì, si parla di questi due livelli, di realtà, di consapevolezza, a un certo punto, poi comincia a fare, l'intrezzo, il, il, banalmente, uno bisogna, che lo segua con la mente, molto, molto attentamente, e allora lì, dico, no, siamo in un video gioco, questo mi sento io, c'è un video gioco, ok, siamo in un video gioco, capisco, ecco, sì, quindi questa è la voglia di strafare, che a te non ti piace, anche del cinema più, post moderno, contemporane, sì, le cose lineari, e come le hai fatte vedere finora, che sono bellissime, perfette, e voler fare, un loop temporale, che qui entriamo anche, nell'ambito delle opinioni, delle credenze, della plausibilità, e uno, o l'orezze, questo scossone, oppure, di rovinare il film. Assolutamente, sì, sì, ricollegandomi, quindi, anche un po' all'horror, questa, questa anche critica, queste strutture, troppo complesse, fine a se stesse, nella tua recensione, del primo scream, di Wes Craven, del 1997, è scritto, che Nightmare, era di ben altro spessore e fascino, cresce meglio la tua posizione. Allora, Nightmare, mi piace molto, perché rappresenta, tra l'altro, molto bene, in questo caso, sono gli incubi, ma a me, un film dove si parla di sogni, mi interessa sempre, dove vengono rappresentati i sogni, e ritengo che sia rappresentare un sogno, o un incubo, sia difficilissimo, che non dipende tanto, dalla digitale, dalla tecnica, nel senso stretto, dipende molto dal regista, se sa esattamente, come, cosa fare, quindi, mi piace per questo motivo, poi c'è il discorso, delle colpe sepolte nel passato, che anche questo, è sempre interessante, cioè lì, si parla di un maniaco, tremendo, che fu iniziato, se non sbaglio, dalla popolazione locale, dell'epoca, ecco, però, 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 poi, le cose non vanno seppellite, così, e basta, poi, il passato riemerge, e presenta il conto, e ci troviamo con questo, uomo orribile, che devasta, i sogni, degli adolescenti, a me interesserebbe anche sapere, da dove è venuta, a Wes Craven, l'idea, mi piacerebbe sapere, se erano suoi incubi, secondo me qualcosa, sì, molte cose sono originali, verosimili, poi, il conflitto, cioè, la complementazione tra sogno e realtà, sono allucinazioni, sono sogni, si intersecano, anche questo mi piace, come nei film anche di Cronenberg, quindi, per questo motivo, mi piace, mi piace Nightmare, il primo soprattutto, poi, perché non mi è piaciuto tanto, Scream, il film Scream, lì, allora, intanto, il ritratto, degli adulti, diciamo, dei giovani americani, è veramente, cattivo, al di là di ogni, cioè, tutti i personaggi, io, non voglio dire che penso bene di loro, e quindi, non mi sono da presentarli così male, però, non ce n'è uno, che veramente, sono tutti da fare, sono personaggi repellenti, dal primo a lui, anche la protagonista, no, la protagonista, no, lei si sa, sono, mi ricordo, no, lei no, sono, me la ricordo perfettamente, però, di lei no, lei era la vittima, esatto, questo contesto malato, adolescenziale, esatto, tutto il suo universo, di amici, di persone che vengono a casa sua, dei festini, sono, veramente, cioè, mi sono risultati sgradevoli, proprio da graffiarmi, quasi, quindi, il film, è ben fatto, io tante volte distingo, tra questi due piani, il film è ben fatto, però, mi presenta materiali, sgradevoli, personaggi molto sgradevoli, e alla fine, dico, non mi produce il piazzere, che mi produce un film ben fatto, quindi, io riconosco, a Wes Craven, la sua mano, il suo, come dire, il suo mestiere, però, alla fine, è troppo, è troppo sgradevole, quel ritratto, è troppo, mi quasi dico, ma basta, cioè, quando vedo, che, che poi, alcuni di loro, sono veramente, cattivi, veramente, alcuni personaggi, sono, al di là di ogni, immaginazione, sono malvasi, e, e non c'è nulla che si salvi, se non lei, che, forse, appunto, era stata minazzata, ecco, a me era anche piaciuto, di Wes Craven, l'altro Nightmare, che aveva fatto, l'ultimo, il nuovo incubo, che mette cinematografico, si chiama in italiano, mette narrativo, ecco, anche quello mi era piaciuto, per questo, questa mano, che, cioè, questo incubo, che torna, e come era un po' nel primo, non era così bello, come il primo, però, anche lì, era, mi è piaciuto, questa, questa persecuzione, di, di questi, personaggi, metà tra gli incubi, e la realtà, mi è anche piaciuto, quindi, so che Scream, è molto famoso, molto apprezzato, a me, mi è fatto, per questo ritratto, il risultato, degli adolescenti, per, sì, il ritratto, degli adolescenti, americani, che, non dubito, sia realistico, forse appena un po' calcato, però, più o meno, penso che siamo lì, eh, tuttavia, alla fine dico, sì, ma, mi fa stringere lo stomaco, sto film, insomma, e forse è funzionato per quello, chissà, ma lì, poi sono i gusti, sì, a qualcuno, a qualcuno, a qualcuno, magari è piaciuto, proprio questo, questo calcare la mano, su questi ragazzi, viziati, violenti, quasi una punizione, quasi una punizione, il mostro, l'horror slasher, che li punisce, proprio per questo, esatto, esatto, e quindi, troppo, troppo acido, solforico, ecco, per i miei gusti, questa è la risposta, bene, quali sono, i tre film, che più ti hanno colpito, in assoluto, allora, il fascino discreto, della borghesia, visto da ragazzino, rivisto poi, è il primo film, che ho nolezzato, è il video registratore, è la prima volta, per cosa andrei, andrei a nolezzare, il fascino discreto, della borghesia, che comunque, all'epoca, negli anni 80, pensate, veniva mostrato, in prima serata, su Rai 3, forse non solo, quindi, era, quello, non saprei neanche spiegare, perché mi piace tanto, quel film, cioè, è perfetto, va bene, è perfetto, però, perché mi piace così tanto, è difficile, per come rappresenta il sogno, secondo me, è memorabile, cioè, come Buñuel, rappresenta i sogni, solo, a Fellini, ci arriva, arriva lì, però, in modo un po' diverso, d'accordo, sono pochissimi, quelli che ci riescono così, come Buñuel, con qualche manzata di altri, anche Berman, nel posto delle fragole, bellissimo, lì, mi colpì, da quando ero ragazzino, il sogno del soldato, questo, che poi, veramente, ma i sogni sono veramente così, mi sono detto, c'è questo personaggio, che cammina, per la via Ambrosa, incontra persone diverse, che poi scompaiono, in un negozio, che poi non è un negozio, tutto in rovina, scuro, vede persone, che sono morte, e non capisce, ma tu sei, tu eri morto, gli dicono, e, quindi, per me, questa forse era la cosa, che mi ha colpito più, di tutto il film, però, ogni, ogni particolare, questa Repubblica, di Miranda, già all'epoca, mi affascinava, che non esiste, ovviamente, nella Repubblica di Miranda, però, mi, mi piace, mi piacciono, i snodi narrativi, come, le cose, bizzarre, strane, di nuovo, poi c'è il sogno, del brigadiere insanguinato, che chi ha visto il film, lo ricorderà, cioè, il film che procede, più o meno a caso, ma, tutto ben hanno dato, insieme, e non vanno a nessuna parte, quindi, sulla trama, non c'è nessuna suspense, non esiste una suspense, sulla trama, perché, quasi, quasi, non c'è, però, le singole, i singoli episodi, presi, io ne so memoria, non so, frasi, ma, gli ufficiali, guardano sempre in quel modo, quando ti guardano, a un tavolo di caffè, ma, chi ha detto, che gli ufficiali, guardano in un certo modo, quando sono al caffè, poi, la, il, i, 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 i personaggi che commerciano droga, i terroristi, cioè, tutto, io quello lì ogni tanto me lo riguardo, e non so anche spiegare bene perché, sicuramente è il migliore film di Buñuel, non ho dubbi su questo, è perfetto, e dentro mi, mi richiama qualcosa che, non mi stanca mai, poi, eh, Andrei Rublyov, di Tarkovsky, un film, che, come vi di le prime scene, già, ho capito, ho capito che era qualcosa di grande, eh, l'atmosfera, la spiritualità, la, 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 critico di Onda TV, di cui parlavo, aveva scritto che un film, quella recensione che mi raccordo a memoria, è un film immenso, come l'anima del suo autore, quando liessi questa roba, un film immenso, come l'anima del suo autore, già questa cosa mi dicevo, questo lo devo, da vedere assolutamente, esatto, poi, eh, senza dilungarmi tanto, poi, non so, ancora uno, vi posso dire, è la conversazione di Coppola, anche questo, mi ha, mi ha subito, da ragazzino, dieci, dodici anni, forse, dodici, non so, mi ha subito preso, è un film per me, che mi affascina, anche lì c'è un suo incubo, che, dove parla con questa donna, da, sopra una scalinata, lui la vede da lontano, eh, poi questa idea di essere spiati, questa incertezza, eh, su, sull'essere, eh, controllati, che non sai come avviene, ma avviene, eh, il, dubbio, eh, gli amici, su chi ti frequenta, eh, è, è un grandissimo film, è quello, la conversazione, è un film non commerciale, che, infatti, non mi pare che abbia sbancato, i botteghini, eh, è un film, di bassi toni, eh, così, minimalista, però grande, interpretato da un attore bravissimo, come Gene Hackman, grandioso, eh, esatto, quindi se dovessi dire tre film, che per me sono lì, che sono presenti nella tua collezione, assolutamente, sì, sì, sono presenti, poi ho, ho trovato, perché, allora, vabbè, il Faccio Credito della Borghesia è uscito sia in videocassetta che in DVD, poi anche in varie, in varie edizioni, questo testimonia che, che il film è molto, sono dei capolavori ormai, sì, celebrati, esatto, esatto, poi, la, la conversazione l'ho trovato qualche anno fa in, in Blu-ray, perché quello è un film che è uscito male, è poco, sempre, oppure in edizione, è stato italiano, era uscito anni fa, eh, in modo così, non ho mai, mai, la buona edizione è fatta bene, in DVD, non è mai uscito, eh, sì, ce l'ho, eh, e me lo tengo stretto, ecco, per la porra da rivedere, per TV, non si viene, eh, però non li hai visti al Cino, questi film, eh, no, allora, sì, allora, allora, sì, in realtà, perché, Andrei Rubiov l'ho visto al cinema, ovviamente, un'esperienza indimenticabile, e ci tornerei, anche io l'ho visto al Cino, alla Cineteca di Bologna, quindi, si capisco, sì, un capolavoro immenso di Tarkovsky, è un'esperienza, è un'esperienza, perché poi, sono un film che anche gli stessi creatori non sanno spiegare bene come li hanno fatti, però sono venuti fuori, sono venuti fuori, sì, sono quei colpi di genio, poi, esatto, esatto, ma certi, certi, più di qualche regista, dici, io questo film non l'ho pensato a tavolino, è vero, mi è nato dentro, tempo fa sentivo un'intervista di Louis Mald, che aveva fatto su Luna Nera, un film poco noto di Louis Mald, ma molto bello, che è fatto solo col materiale onirico, tra l'altro, ha detto Margina, e lui ha detto, io questo film, è tutto, tutto meno che un film commerciale, e questo film mi è nato dentro, io non l'ho pensato a tavolino, e questo mi ha detto molto, ma molti registri lavorano così, anche l'improvvisazione, sì, sì, gli artisti non sono, non sono una rizzerca commerciale, magari hanno i mezzi per farlo, dopo per realizzarlo, quando ce ne hanno, grazie a Dio, e lo fanno, però, oppure qualcuno che dice, ma io l'ho fatto così, ma non pensavo più che sarebbe riuscito, un sesto senso, un film del genere, Buñuel faceva sempre così, per esempio, dirava quello che gli saltava in testa, e poi, poi finivano, fuori, bellissimi film, insomma. Va bene, allora, procedo con l'ultima domanda, questa volta passiamo dai registri, agli attori, quindi c'è un attore, un'attrice, o entrambi, che ti piacciono molto, e di cui vorresti parlare? Allora, brevemente, io, un attore che mi piace molto, è Serge Reggiani, no, attore francese, negli anni 60, 70, sicuramente, lui, non so, è quegli attori che, basta vederlo, per come recita, per le espressioni che ha sul volto, questa malinconia, che ha sempre, stampata, sulla faccia, e qualunque cosa, dica o faccia, è grande, Serge Reggiani, mi piace sempre vedere, e poi ha interpretato bei film, che sono belli di per sé, ecco, non so, degli americani, so, Sterling Hayden, mi piace molto, ecco, Kirk Douglas, una forza, una grande, cioè, il suo figlio è come la sua radice terrata, non è male, però, però, la potenza che aveva suo padre, era qualcosa di, non so, se uno vede l'asso nella manica, cioè, solo il modo in cui recita lui, cioè, è importantissimo nel film, quindi, io non vado molto per attori, ecco, quindi, ne ho pochini, che mi piacciono molto, ma non è che dico, guardo quel film, perché sei quell'attore, no, perché il film può essere brutto, con un bravo attore, o brutto, nonostante l'attore, non so come dire, quindi, non vado molto per attori, vado un po' più per registi, se so che certi esistono affidabili, a parte queste figure, così, non è che dico, il mio, cioè, tutti questi attori, due, tre, che mi sono molto simpatici, molto, come quelli che ho nominato, e bastano, poi giudico, ciascuna interpretazione, che può essere bellissima, profonda, eccetera, però come personaggi, quelli che ho detto io, persone, alcuni che adesso, sì, perché gli attori, poi, fanno anche film commerciali, film più autoriali, più artistici, quindi, loro fanno di tutto, quindi, è un po' impossibile stargli dietro, perché, fanno così tante cose, no, è un attore che fa successo, poi viene inondato da proposte, no, e se, se è molto accorto, ma quasi nessuno lo è, accetta solo le migliori, ma di solito vogliono lavorare, e quindi, accettano tantissime cose, cose, che poi magari si prendono, perché dicono, che ho fatto qui, e quindi, un attore, subissato da proposte, nel giro di tre anni, gira, gira, 20 film, e però, magari due o tre, erano veramente belli, insomma, va bene, allora, io ti ringrazio, tantissimo, per questa conversazione, per questa intervista, quindi, ringrazio anche tutti gli spettatori, che ci hanno seguiti fin qui, l'invito a iscriversi, a fintv.it, a seguire, Baliverna, Stefano, su fintv, e soprattutto, e tanti altri, altri utenti, che meritano veramente, perché è uno spazio cinefili, in cui poter, scrivere, leggere, di cinema, e credo sia lo spazio migliore, sul web, per poter iniziare anche, a produrre recensioni, a confrontarsi, con veri appassionati di cinema, quindi io, ti ringrazio tantissimo Stefano, e alla prossima puntata.